Un tripudio di colori nei cieli del parco della Murgia Materana a spiccare il volo in piena libertà a tanti pappagalli provenienti da varie regioni italiane, ospite d'onore da Torrenzo Salvi col suo amato pappagallo Fly. Questa suggestiva location di Matera, questo bel vedere, non potevamo mancare come bel vedere di questo cielo pieno di colori con i nostri pappagalli che fanno free flight, fanno il volo libero. Il primo raduno a Matera è stato organizzato dal gruppo di allevatori amatoriali Noi il Volo del Sud. A partecipare anche gli esperti dell'associazione Umbra Passione Pappagalli di Chiara Alessandrini. Oggi siamo qua con il nostro spirito di aggregazione per condividere la passione che ci unisce. Allora, lei è un'Ara Macao, una militare, Ararauna, un Arlecchino, la Cloroptera. La Cloroptera. Andiamo più delle ragazze molto variegate, insomma quelle più rappresentative, quelle più predisposte al volo. Facciamo un addestramento che dura qualche mese, quindi vogliamo in sicurezza, alcuni usano il GPS. Non li dobbiamo assolutamente forzare, non dobbiamo assolutamente pretendere da loro cose che non farebbero in natura e bisogna fargli capire che noi siamo il loro punto di riferimento, cioè siamo parte di un grandissimo stormo. Insomma noi iniziamo chiaramente con i premi che sono rinforzi positivi, poi col tempo si staura, è un rapporto talmente emotivo, di amore che il pappagallo ritorna solo perché ci ama, come noi altrettanto. Veniamo dall'Umbria, precisamente da Gualdo Cattaneo dove è ubicato l'allevamento di Chiara Alessandrini e abbiamo questa passione innata. Contenti di essere qui? Contentissimi, guarda. Con i loro compagni con i quali instaurano un forte legame di fiducia, i pappagalli hanno ritrovato anche a Matera la magia del volo, ali distese e colorate, simbolo di leggerezza e libertà. I pappagalli devono vivere liberi, liberi insieme a noi. I pappagalli, liberi insieme a noi.